Ciao a tutti, in queste settimane in cui è necessario ridurre al minimo i contatti sociali abbiamo deciso di proporvi due allenamenti a settimana che potete svolgere comodamente in casa utilizzando oggetti facilmente reperibili. Ed ecco a voi l'atleta che ci guiderà nei nostri esercizi. Ciao a tutti, io sono Giulia. Siete pronti? Per l'allenamento di oggi utilizzeremo due panni di cattura polvere. In alternativa potete utilizzare dei semplici spazi. In alternativa potete utilizzare dei semplici spazi. In alternativa potete utilizzare dei semplici spazi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.